Ci occupiamo di progettazione, produzione, ricerca e sviluppo ed efficientamento della produzione per il settore della meccanica di precisione, principalmente per il settore aerospace, energy e nel gas. Essendo una startup innovativa siamo nativamente sostenibili, quindi tutti i processi aziendali sono volti all'efficientamento della produzione e degli acquisti e dei componenti che andiamo a realizzare per i nostri clienti. Aiutiamo le aziende di manifatturiere a rendere più efficiente la loro produzione attraverso il digital manufacturing, ossia l'integrazione di tecniche di lean production con tecnologie proprie di industria 4.0. Aiutiamo ad applicare questa filosofia di digital manufacturing ad aziende molto strutturate come possono essere multinazionali italiane ma anche estere.